Siamo qui oggi a Fiera Didacta fino al 14 ottobre con molte iniziative e su Erasmus abbiamo avuto una bellissima evento che ha coinvolto la scuola siciliana di esperienze di mobilità e di cooperazione perché questi sono tra gli altri gli Erasmus Days, un'iniziativa della Commissione Europea che vuole valorizzare tutto il lavoro che viene fatto in Erasmus e promuovere le opportunità verso soprattutto coloro che ancora non hanno partecipato. Qui dentro Fiera Didacta siamo anche presenti come agenzia Indire per un progetto davvero innovativo che ha visto la sinergia di due fondi diversi europei, da una parte il programma Erasmus e dall'altra il Fondo Sociale Europeo. Grazie a questi due fondi abbiamo potuto accrescere il numero della mobilità degli studenti siciliani e abbiamo dato avvio ad una sempre più forte collaborazione e cooperazione con l'area del sud del Mediterraneo. Quindi in questo momento stiamo ospitando Università dell'Algeria, della Giordania, dell'Egitto e ovviamente le università siciliane con cui questi collaboreranno spero sempre più per dare tanta opportunità a tanti giovani. In questo caso il mare che divide la Sicilia dal sud del Mediterraneo è un mare che unisce e non divide, è un mare delle opportunità e delle opportunità europee.